Potere al popolo non è riuscita a presentare la lista per dare la possibilità a chi è emigrato a Europa di ruotare nuove apposte. In Italia ci sono circa 250.000 giovani che ogni anno spiccano il volo per i paesi europei. E loro potrebbero votare, molti di loro potrebbero votare. Io sono una madre, un giovane, che si trova attualmente in un paese europeo e non ha la possibilità di votare. È stata lanciata una campagna, una campagna da parte di un popolo di adotte nuove, da parte di questi numerosissimi giovani che si trovano attualmente all'estero e non hanno la possibilità di votare. Io voto per mio figlio che si può allestare, ho adottato il suo figlio e spero che molti altri potranno fare lo stesso. Ho la speranza che questi giovani tornino in Italia per affrontare il futuro di questo posto. Ciao! Ciao! Ciao!